Buongiorno, mi chiamo Anna Maria Girardino, sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fotonica e Nanotecnologie e vi presento qui al Maker Faire un progetto che si chiama Spettra Food che trae origine da un progetto precedente, il cui nome era invece Fasma Food che era un progetto che è stato finanziato dalla comunità europea, si è concluso nel 2019 e questo progetto ha previsto la realizzazione di un sensore per valutare la qualità del cibo ed alcune sue contaminazioni o contraffazioni ed era un sistema completamente wireless che viene gestito tramite un'app per cellulare, il sistema funziona utilizzando la luce che viene riflessa da un campione di cibo e viene poi confrontato con un insieme di altri dati che sono già stati immagazzinati in un database dando poi una risposta circa la qualità o la contaminazione o la contraffazione in senso positivo oppure negativo. Il progetto Spettra Food che è quello di cui parliamo oggi è un progetto che riprende un po' l'idea del progetto europeo con l'idea di creare un sensore che sia più compatto e più economico e in particolare noi abbiamo pensato di ampliare ulteriormente le applicazioni e di applicarlo per valutare la presenza di pesticidi clorurati su foglia utilizzando come amplificatore delle nanoparticelle di ossido di zinco però di questo vi parlerà dopo di me la mia collega la professoressa Marilena Carbone. Un'altra applicazione che ci è stata suggerita da un produttore è la possibilità proprio perché era di loro interesse era di valutare il contenuto proteico e di umidità quindi la quantità di acqua presente nelle farine e nei gradi integri con una precisione almeno dello 0,5%. Nell'ambito di questo progetto essendo un progetto della regione Lazio noi siamo anche alla ricerca di ulteriori applicazioni soprattutto da produttori della regione Lazio in modo tale da poter ampliare e di creare un servizio anche per la regione. Come funziona? Nel progetto europeo abbiamo già validato la possibilità di misurare aflatossine che sono delle tossine che si generano da funghi e sono molto comuni sul grano sulla frutta secca ed anche per esempio nell'uva quindi possono rientrare nel vino. L'autenticità di olio d'oliva e del latte in polvere quindi noi siamo in grado di valutare se ci sono state contraffazioni e anche il livello di maturazione. Come lo facciamo? Vedete ci sono delle foto abbiamo una foto nel visibile quindi è stato illuminato con luce bianca poi c'è una foto che è una foto di fluorescenza vuol dire che abbiamo illuminato con un led a ultravioletto ma il materiale assorbe l'ultravioletto e riemette luce nel visibile quindi la luce che voi vedete è una luce visibile ma è generata da l'assorbimento di luce ultravioletta. L'ultima è radiazione nel vicino infrarosso. Sotto vedete uno spettro lo spettro è praticamente un grafico costruito con l'intensità della luce riflessa dal campione in funzione della lunghezza d'onda quindi a seconda dello spettro che noi andiamo a individuare è proprio lo spettro che viene inviato nel database confrontato con tutti gli altri che noi abbiamo già acquisito e utilizzando sistemi di intelligenza artificiale con metodi di classificazione viene poi generata la risposta se è contaminato per esempio no. Nel caso della flatossine noi siamo stati in grado di valutare la contaminazione mettendo come soglia di contaminazione quella che è il valore consentito dalla comunità europea e quindi siamo in grado di valutare questo. Ora nel progetto SpettraFood attualmente noi abbiamo fatto il progetto del sistema che andrà ad alloggiare i vari sensori che vedete qui c'è un sensore che è uno spettrometro nel visibile, uno nell'infrarosso, quelle sono immagini di lampade nel vicino infrarosso e led nel bianco e nell'ultravioletto e quella è una telecamera. Detto questo lascio la parola alla mia collega che vi parlerà un pochino meglio dei pesticidi clorurati e perché è importante misurarli. Quindi lascio la parola alla professorissa Carbone. Buongiorno, sono Marielena Carbone dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie e Chimiche dell'Università Tor Vergata e intervengo in questo progetto che ha introdotto la mia collega del CNR per quanto riguarda la parte dei pesticidi clorurati. Ora i pesticidi clorurati sono permessi in agricoltura e vengono utilizzati per tutta una serie di colture quindi pero, melo, drupace, cucurbitace, cereali, pomodori, l'uso è abbastanza diffuso. Qual è il problema? Il problema è che nel momento in cui l'alimento viene messo sul mercato la concentrazione residua di pesticida clorurato deve essere al di sotto di una certa soglia e questo è completamente ragionevole. La soglia, la quantità di pesticida residuo deve essere misurata quantomeno a campionamento e diciamo qui sorge il problema. Il problema è che i pesticidi clorurati sono cosiddetti silenti, noi li abbiamo definiti silenti, vale a dire non è possibile operare una detezione, un rilevamento veloce di pesticidi clorurati con metodi elettrochimici oppure con metodi fluorescenti. Bisogna portare i campioni in laboratorio. Allora noi interveniamo in questo senso, facciamo tesoro dello strumento messo a punto dal CNR e nel frattempo però diamo una cosiddetta voce fluorescente ai pesticidi clorurati, vale a dire mettiamo appunto un sistema di riconoscimento fluorescente. In che consiste? Dato un pesticida clorurato, per prima cosa noi ci assicuriamo di avere un nucleo fluorescente, una nanoparticella che abbia caratteristiche di fluorescenza, questa nanoparticella, la funzionalizziamo, attacchiamo una coda o una molecola che utilizziamo per il riconoscimento, il cosiddetto riconoscimento molecolare. Allora a questo punto il pesticida interagisce con il nostro sistema e automaticamente in maniera indiretta ha un segnale di fluorescenza e può essere rilevato. Questo da un punto di vista generale, da un punto di vista pratico che cosa facciamo? Scegliamo di utilizzare l'ossido di zinco e c'è un motivo preciso, l'ossido di zinco è stabile, pratico, maneggevole e di fatto di per sé praticamente innocuo, tant'è che viene utilizzato nelle creme per le pomate dei bambini. Ma facciamo un'altra cosa, dobbiamo ottenere delle nanoparticelle, le nanoparticelle le abbiamo messo a punto un sistema di sintesi di nanoparticelle green, totalmente green, vale a dire la sintesi l'effettuiamo in solvente acquoso, in acqua e a temperatura ambiente al massimo arriviamo a 40 gradi. Chiaramente dobbiamo funzionalizzare il nostro ossido di zinco e quello che otteniamo sono le bottigliette che vedete sopra nell'immagine in alto. Ora vi prego di credermi se vi dico che l'ossido di zinco funzionalizzato con APTMS corrisponde alla prima bottiglietta. Questo APTMS per noi è il mezzo di riconoscimento specifico di uno dei pesticidi mostrati all'inizio, il penconazolo. Allora, fatta tutta questa operazione dobbiamo verificare che il sistema funzioni e lo facciamo in due modi. Prima di tutto verifichiamo attraverso la microscopia, in questo caso elettronica, necessariamente elettronica, che abbiamo effettivamente delle nanoparticelle e così è. Nell'immagine che vedete abbiamo nanoparticelle tonde al di sotto dei 150 nanometri e chiaramente dobbiamo essere sicuri che siano fluorescenti e se guardate l'immagine di fluorescenza a destra, allora ci sono due curve, la curva nera è dell'ossido di zinco funzionalizzato e la curva rossa è di ossido di zinco funzionalizzato più penconazolo. C'è una differenza di segnale e quindi di fatto ho funzionalizzato il sistema. Allora, chiaramente questo è l'incipit del progetto, dobbiamo fare tutta una serie di verifiche e oltre a questo chiaramente c'è la parte del progetto che riguarda i cereali di cui vi ha parlato prima Anna Maria. Allora, sicuramente andremo avanti col progetto ma diciamo soprattutto mi interessa ribadire che siamo aperti a collaborazioni con chiunque fosse interessato a questo genere di applicazione su vari alimenti o su varie culture su campo o quanto riteniate necessario. Grazie per l'attenzione.